Aperto 98, Brooke Greddon, Gran Bretagna, doppio mezzo ritornato Carpiato. Sicuramente ancora una buona ingressione da parte dell'atleta inglese. Come detto già in precedenza, l'Inghilterra è qui con una seconda squadra proprio perché a breve termine ci sarà in Inghilterra una prova del World Series Grand Prix e quindi la squadra A è rivolta. Greddon, doppio salta mortale mezzo indietro Carpiato con un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,4. E questo è uno dei tuffi che la FINA, la Federazione Mondiale, avrebbe intenzione di ridurre come coefficiente di difficoltà perché ormai lo fanno veramente tutti. Un po' come i mezzi abitamenti di cui si parlava poco fa. E si vorrebbe provare a ritornare ad aumentare un po' quelli che sono invece i tuffi di una volta cioè il salto mortale mezzo indietro con tre abitamenti e mezzo o quattro abitamenti e mezzo addirittura che sembrava essere un tuffo praticamente impossibile e erano pochi veramente, pochissimi al mondo a poterlo eseguire. Greddon al secondo posto, vicinissime la Vintoniak, Odri Labus, pericolo e mezzo avanti Carpiato. 61,20 il parziale per la Greddon. Seconda in classifica. Adesso Brooke Greddon pasticcia un po' con la verticale, doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo. È stata sicuramente più abile nel fermare la spinta della prima gamba che ha messo in verticale per poi andare a posizionare la seconda. Sicuramente è salva per questo particolare ma non è salva nella parte finale del tuffo. È un po' ballerino e ingresso in acqua anche. 60,80. Continua a guidare la Vintoniak. Adesso Odri Labus, doppio mezzo indietro Carpiato e poi Noemi Batki. 41 punti per lei. Greddon, doppio mezzo indietro Carpiato, poi Labus e Batki. Qui la Greddon secondo me capisce invece molto bene dove si trova. Anche se la posizione della sua testa è un po' troppo alta. Però perlomeno avendo la testa alta riesce con lo sguardo a distribuire. Vedete, si riesce a distinguere. Si muove perfettamente la testa per andare a cercare la piattaforma. Lo si capisce perfettamente. Guardate, al secondo giro lei vede la piattaforma e poi va a mettere la posizione di verticale. 60 punti per la 90. Greddon che va al comando della classifica. Semifinale raggiunta invece da Cagnotto e Marocchi, poi però eliminate. Greddon, doppio mezzo rovesciato raggruppato. Seconda in classifica. Molto vicina però a Brenda Spaziani. E ancora una volta tira fuori un ottimo tuffo ma soprattutto un ottimo ingresso in acqua. Il tuffo tecnicamente non era ben eseguito, era molto scappato dalla piattaforma, non c'era spinta, si è allontanata subito. Vedete le mani che vanno a raggruppare molto alte però quello che c'è di buono è proprio... La Batki dovrebbe tirar fuori un tuffo così. Esatto, esatto, infatti il parziale della Greddon... 60,85 mi sembra, non basterebbero, è qualche mezzo punto in più. Tanto la Greddon va a superare quota 300 punti. Coltunova, Greddon, Vintonia, sicuramente chi esce mali da questa eliminatoria la Prokopci, nona, ma chissà, magari ha scherzato, non avendo, non essendoci stati mai dubbi sulla sua qualificazione, si può anche giocare a nascondersi. Entra miracolosamente, verrebbe dire Noemi Batki, ed entra la grande Brenda Spaziani. Ci fermiamo per qualche istante, lì nella regia, poi la conclusione di questa prima sessione di gare. Grazie a tutti.